Ho ardentemente desiderato di mangiare con voi questa Pasqua. Uno di voi mi tradirà. Abestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni! Sostieni di essere Cristo, un re. Sei tu il re dei giudei. Insomma, puoi farci assistere a uno dei tuoi prodigi? Satana ha chiesto di vagliarvi come il grano. SONIA D'OFRIO 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 Grazie a tutti